E' una sorpresa e sono molto contento, sono due volte che partecipo alla volta e due volte che vado sul podio, è qualcosa di speciale. Dicevi dopo tutte le disavventure di questa stagione, quindi adesso come stai? Adesso sono sano, il problema è stato risolto e devo solo guadagnare un po' di condizione e avere un po' di pazienza, perché so che non potrò essere il demarche dell'anno scorso, ma con un po' di pazienza ritorneremo a crescere. Pazienza, però inevitabilmente quando si prende il via di una corsa così lunga, così grande, così importante, c'è sempre comunque la voglia e l'obiettivo di sperare in qualcosa. In cosa speri? Non si sa mai, alla fine tre settimane sono sempre lunghe e non sai cosa puoi aspettarti, però so che con quello che ho perso questa primavera devo avere pazienza e fare un po' attenzione a quello che succede, quindi vivrò la giornata in funzione della squadra e poi vedremo un po' cosa ci riserva. La volta è dura, quindi bisognerà fare attenzione a come gestirsi. In squadra l'obiettivo quale? Perché adesso mi dici che gli obiettivi personali è difficile in questo momento averne, in squadra comunque ho i DJ che al tour ha fatto molto bene. Come TJ e Samu che meritano di essere supportati e quindi sicuramente ci sarà una certa attenzione alla classifica per loro due e poi ogni giorno per tutti quanti sarà un po' di libertà, un pizzico di libertà. Vedremo come proseguono. Comunque partono alla pari, mentre al tour magari... Sì, sì, sì.